In Italia nulla è più definitivo del provvisorio. A dirlo è stato molto tempo fa Giuseppe Prezzolini, grandissimo maestro di giornalismo. A questa regola non è rimasto indifferente il Consiglio regionale del Molise, che dall'inizio della pandemia si è riunito in via provvisoria a distanza, salvo poi far diventare questa precauzione un modo per restare a casa e disertare sistematicamente l'aula. La cosa non è sfuggita al presidente dell'Assemblea di Palazzo da Immo, Salvatore Micone, che a partire dalla prossima sessione dei lavori, prevista per martedì 2 febbraio con inizio alle 9.30, ha disposto il ripristino delle sedute in presenza prevedendo una decurtazione dell'indennità per quei consiglieri che non si presentassero in aula. Micone lascia aperte tutte e due le strade, si può essere presenti, allora l'indennità sarà piena, oppure si può scegliere di partecipare a distanza e allora l'indennità verrà decurtata. E' chiaro che l'intera struttura del Consiglio presenterà le adeguate cautele volte a garantire il necessario distanziamento e l'adozione di tutti i dispositivi di sicurezza. La ripartenza del Consiglio in presenza nasce dalla necessità di garantire un efficace confronto dialettico tra i componenti della Giunta regionale, a partire dal Governatore con tutti i componenti l'aula. Il Consiglio regionale è in modalità a distanza da marzo, dal momento dello scoppio della pandemia, ma sin da allora è stata lasciata la possibilità a chi volesse di essere presente. A onor del vero una pattuglia di irriducibili è stata sempre in aula, tuttavia l'assise si è progressivamente svuotata. Il Consiglio a distanza ha dei limiti in dubbi legati alla comunicazione farraginosa e disturbata che a tratti ricorda certe conversazioni tra astronauti, ospiti dentro basi spaziali perse nell'universo, grandi poi i limiti in occasione della stesura in corso d'opera di documenti e atti per i quali occorre il confronto tra più parti. Staremo a vedere cosa accadrà martedì, cercando di capire se una eventuale presenza compatta in aula sarà il frutto di una resipiscenza e quindi di un ravvedimento o l'esito della penalità messa in campo da Micone.